Tanti auguri a donna Maria, tanti auguri a te. Longevità, uno stile di vita sano, tanta positività, voglia di vivere e bere sempre mezzo bicchiere di vino a pranzo e cena. Signore e signore, vi ringrazio tanto e tanto tanto, le fiore che mi ti portate, vi voglio bene, anche l'anno prossimo. In questo giorno speciale l'ha omaggiata il sindaco Vincenzo Biancardi, portandole gli auguri della comunità di Avella, tifosissima del Napoli, dopo aver spento le sue 105 candeline, nonna Maria ha dedicato un pensiero agli azzurri. Forza Napoli! Forza Napoli!